Nel 1938 le guardie comunali Sante Salvi e Alvaro Antonelli inauguravano a Sansepolcro un distaccamento dei vigili del fuoco volontari. Lo ricordano in una nota i tre partiti politici che esprimono la maggioranza a Palazzo delle Laudi, PDL, UDC e Lega. Da allora, in questi 72 anni, tanti concittadini hanno seguito l'esempio dei loro illustri predecessori e con preparazione e senso di responsabilità si sono messi a disposizione della comunità. I vigili del fuoco volontari di Sansepolcro, mettendo a disposizione degli altri il loro tempo libero, i fine settimana, le feste, rappresentano un esempio estremamente positivo per tutta la città e negli anni sono diventati un punto di riferimento e uno strumento di garanzia per la sicurezza dell'intera valtiverina toscana, intervenendo spesso anche oltre i confini regionali. Uomini e donne e studenti che svolgono normalmente attività diverse nel bisogno a disposizione degli altri, sono volontari ma non dilettanti, sostengono infatti gli stessi esami di abilitazione dei vigili del fuoco permanenti, sono puntuali e professionali nello svolgimento dei propri compiti, non differiscono in nulla, se non nel notevole minor costo a carico della collettività dal corpo dei vigili del fuoco permanenti. Il PDL, l'Unione di Centro e la Lega di Sansepolcro nell'esprimere gratitudine a questo corpo di volontari nel ribadire a loro totale sostegno, poiché credono fortemente nel principio di sussidiarietà che vuole valorizzare l'esperienza e le attività dei gruppi intermedi che nascono all'interno della società, ricordando nella nota che lo Stato, le regioni, le province e i comuni, dopo aver verificato le loro capacità nel rispondere ai bisogni a cui si rivolgono, devono favorire in tutti i modi leciti l'iniziativa di tali gruppi e intervenire unicamente in un'opera di supplenza quando tali gruppi non ci sono, Proprio sottolineando l'importanza del ruolo di garanzia di incolumità e di sicurezza per l'interavalle rivestito dal distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Sansepolcro, il centrodestra Biturgenze si esprime in modo deciso per il mantenimento e il potenziamento di tale corpo di volontari e la netta contrarietà alla ventilata creazione di un corpo misto, in quanto non più previsto dalla legge e soprattutto perché potrebbe portare allo scioglimento del corpo di volontari di Sansepolcro. Il numero dei volontari, pur elevato tanto da garantire il servizio 24 ore su 24, potrà ampliarsi viste le domande depositate, dicono PDL, Udc e Lega, spetta agli organi competenti fare in modo che i corsi propiedeustici agli esami, i medesimi dei permanenti, vengano svolti negli orari più favorevoli per i candidati. Sarà Sansepolcro, conclude il centrodestra, ad ospitare la nuova caserma. Essendo da sempre sede del distaccamento, avendo la zona industriale più grande del comprensorio valtiberino toscano e l'accesso diretto all'E45, è quindi il luogo più facilmente raggiungibile dagli altri sei comuni della Val e questa è una decisione di responsabilità che le istituzioni non possono tradire.